Sulla trattativa Stato-Mafia non ho niente da riferire, non so nulla. Solo oggi con il deposito in cancelleria vengono resi noti i contenuti della lettera inviata il 31 ottobre scorso dal capo dello Stato al presidente della Corte d'Assise di Palermo che lo ha citato come teste al processo sulla trattativa ai tempi delle bombe dei primi anni 90. Una missiva in cui il napolitano ribadisce i suoi limiti di conoscenza, i suoi non so. Non ho da riferire alcuna conoscenza utile al processo, scrive come sarei ben lieto di poter fare se davvero ne avessi da riferire. Nel mese scorso la Corte aveva ammesso la richiesta della Procura di citare la testimonianza del presidente della Repubblica in relazione ad un fatto specifico, una lettera ricevuta nel giugno 2012 dal suo consulente giuridico Loris D'Ambrosio, scomparso un mese dopo. In quella missiva D'Ambrosio, finito nelle polemiche per alcune sue conversazioni intercettate con l'ex ministro Nicola Mancino, imputato nel processo, esprimeva il timore di essere stato un ingenuo e utile scriba per indicibili accordi. A quali indicibili accordi si riferiva D'Ambrosio che negli anni delle bombe aveva ricoperto importanti e cruciali incarichi istituzionali, cosa lo tormentava? Su questo i giudici vorrebbero un chiarimento ed è solo su questo punto che Napolitano potrebbe essere ascoltato dalla Corte in trasferta a Roma. Nell'ammettere la sua testimonianza, infatti, la Corte ne aveva anche stabilito i limiti, i paletti. Con la sua lettera, il capo dello Stato non rifiuta, tu cur, la sua disponibilità. Non dice non voglio testimoniare, non risponderò alle domande. Dice alla Corte valutate l'utilità perché io in merito non ho nulla da dire. Il Presidente della Corte, Alfredo Montalto, non ha inserito la missiva del Colle agli atti del processo, l'ha messa a disposizione delle parti. Qualora tutte le parti fossero concordi nel dare il loro consenso, la Corte potrà rivalutare, alla luce della lettera di Napolitano, la necessità della sua audizione. Altrimenti, probabilmente in primavera, la testimonianza ci sarà.